Salve a tutti misi youtubers e bentrovati dal vostro creatore giallorosso94 benvenuti nel secondo video di questa giornata che riguarda un po' il tema del calciomercato anche se non a sfondo giallorosso voglio parlarvi di Gigi Donnarumma, Gigi o Donnarumma chiamatelo come volete che a soltanto 16 anni come tutti sapete è diventato il titolarissimo del Milan e ovviamente quando un giocatore diventa fin da subito forte i giornali devono metterci 4000 voci Donnarumma soltanto qualche giorno fa era venduto al Marseille, era venduto al Real Madrid era venduto al Manchester United, era venduto alla Juve come erede di Buffon ovviamente è sempre così, quando un giocatore diventa forte ed è in una squadra che comunque può accettare offerte importanti subito i giornali sparano i bocioni, va in Francia, va in Inghilterra, va in Uzbekistan, va in Australia eccetera eccetera ma io in questo video voglio parlarvi della possibilità dell'approdo di Donnarumma alla Juventus un po' come hanno fatto Higuain e Pjanic che sono andati alla Juve per guadagnare un pochino di soldi in più ma soprattutto per vincere allora io penso che sia presto sia presto per fare queste voci perché il giocatore è si forte sta già maturando però appunto per questo deve maturare non lo vedo ancora pronto per prendere subito le redini della porta di Buffon per me serve ancora tempo per vederlo diciamo ad altissimi livelli finora si sta dimostrando veramente un ottimo portiere però bisogna stare attenti a non fargli montare la testa abbiamo visto anche nel caso Scuffette come il giocatore sembrava anche lui pronto per prendere l'eredità di Buffon ma comunque per andare in una squadra importante e adesso dopo un'annata diciamo disastrosa con il Como è il secondo se non il terzo addirittura dell'Udinese quindi diciamo che bisogna aspettare bisogna dargli il giusto tempo perché un giocatore così giovane devi lavorarci molto su a livello mentale perché ovviamente non siamo tutti uguali però quando uno è giovane quando gli metti le prospettive davanti e tu sarai questo, tu sarai quell'altro diventerai fortissimo cosa che fanno soprattutto i procuratori che sono il male del calcio secondo me il giocatore rischia magari di fare il passo troppo lungo cioè già si immagina tutto il futuro radioso e poi comunque c'è il rischio che esso non venga realizzato proprio per questo motivo quindi io da esterno lo dico ovviamente da esterno perché non tifo nessuna delle due squadre non lo considero ancora pronto per prendere l'eredità di Buffon questo può valere sia nazionale sia con la maglia bianconera perché comunque sono due discorsi diciamo legati perché Donnarumma è anche lui italiano e quindi se prende l'eredità di Buffon con la Juve in tutta probabilità la prenderebbe anche il nazionale però secondo me è ancora presto per dire certe cose una cosa è certa sicuramente la Juve prima o poi si interesserà veramente a Donnarumma e qua non ci saranno soldi che tengono non ci saranno clausole quello che vi pare il Milan però dovrà stare molto attento perché un portiere come lui con le sue potenzialità non si può trovare in giro quindi io se fossi nel Milan non accetterei nessuna delle offerte che mi vengono fatte per Donnarumma perché è un talento cristallino che deve ancora maturare ha bisogno di tempo e il tempo gli deve essere dato questo lo dico anche perché molti parlano di Donnarumma già a gennaio alla Juve e questa è una cosa secondo me troppo esagerata anche perché Buffon c'è ancora verrebbe a gennaio per fare la panchina e tu non puoi mettere in panchina attualmente un portiere che è proprio il rampa di lancio questo è secondo me il motivo per cui il Milan deve rifiutare ovviamente per se stesso ma anche per il giocatore attualmente il giocatore sta trovando la sua dimensione sta trovando il suo ambiente ideale con il Milan perché adesso stanno arrivando anche i risultati positivi perché prima era una questione di giocare adesso il portiere gioca e i risultati comunque arrivano perché il portiere fa tantissime belle parate salva risultato come contro la Juve il Milan comunque è in un ottimo stato di forma perché è terzo a un punto dalla Roma con una rossa secondo me molto inferiore quindi comunque adesso sta trovando un giusto ambiente sia a livello di presenze sia a livello di decisività se così si può dire nelle partite sia a livello di classifica del Milan e quindi io penso che se fossi nella società rossonera eviterei tutte le possibili offerte per lui adesso c'è l'abitudine di fare clausole no? io ne metterei una da 150 milioni proprio per prendere per il culo capito? così se voi lo volete sborsate 150 milioni e ve lo portate a casa certo si prenderebbero un ottimo giocatore ma intanto vi danno una barca di soldi 90 milioni per Higuaín era una cosa che non ci si aspettava nessuno però alla fine gliel'hanno offerti Donna Roma ha 16 anni 16-17 anni ha ancora almeno altri 15 anni se non di più da giocare come portiere ovviamente parliamo di prospettiva poi non sappiamo ovviamente quale sarà il suo futuro 150 milioni se no ce lo teniamo noi questa è la tattica che io farei se no basta sono a fine chiusura delle trattative e buonanotte questo vale ovviamente con la Juve perché ho fatto l'esempio che ovviamente la Juve è stata la protagonista di clausole e cose del genere in quest'estate ma può essere anche rivolto al Manchester United che anche loro spendono 200 milioni di soldi per dire ma anche se ho detto un numero abbastanza normale per loro comunque è inerente anche ad altre squadre cioè non è che parlo solo di una parlo di un'altra comunque se fossi nel Milan in conclusione rifiuterei tutte le offerte per lui e aspetterei di vederlo maturare ancora di più per farlo diventare un caposaldo importante della squadra rossonera poi se magari qualcuno si interesserà metti una bella clausola 180 milioni 150 milioni se danno quei soldi ve lo prendete fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questa soluzione di questa possibilità di Donnarumma alla Juventus se voi comunque accettereste di fronte a una buona somma se non lo cedereste mai a chi lo cedereste se lo terreste fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto nei commenti ci vediamo domani per il video sugli 8 migliori centrocampisti che hanno giocato con la maglia della Roma dalla stagione 2000-2001 ai giorni d'oggi un saluto dal vostro creatore di Giorgio Rosso 94 e sempre Forza Roma ciao ragazzi